bocchertò bocchero ora tutte tet tiscerè nove di tiscerè 11 ottobre vigilia del giorno più solenne dell'anno di un kippur allora la vo dà dunque il servizio di no come ci spiega nella mia ammirebbe di della vigilia di un kippur è sentire il rimorso per le mancanze del passato invece il servizio di un kippur stesso sono i propositi per risolvere il futuro dunque da oggi fino alla fine del mese di trishrei non nelle tfilotte non diciamo tahanun non pronunciamo il tahanun e malkota malchevi a niklas nemmorim beurachun shaloshpamim bere di un kippur avodai e khartal avar viam a kippurin kabbalah al pagina era pagina 140 e vedo che stilandiamo a allora siamo alla parashah prenderemo anche settimana prossima allora siamo 27 l'altro giorno abbiamo fatto fino a 27 che dunque ci siamo portati avanti per ieri che non abbiamo potuto fare la mattina e dunque oggi dunque siamo da 27 fino alla fine del pere dunque fino a 29 incluso e domani poi un nuovo capitolo 34 da 1 a 12 incluso allora andiamo subito al kumash dunque a dimora di hashem dei tempi antichi e come spiegherasci le nubi servono da dimora per il dio hashem il dio dei tempi antichi e infatti ovviamente kadosh boruhu è il più antico tra virgolette di tutti gli dei e scelse per sé le nubi quale sua abitazione e dimora così ci spiegherasci allora mentre di sotto sono le braccia del mondo quando dice di sotto rasci ci spiega sotto la sua dimora abitano ora di hashem ovviamente abitano tutti coloro che possiedono un braccio potente e le braccia del mondo cosa si riferisce quando parla delle braccia del mondo si riferisce in realtà e a visita però un attimo un attimo ragazze un attimo ecco qua e allora quando parla di delle braccia del mondo si riferisce a si conne o questi due giganti re e di kenan che costituivano cioè si con e log e ai re di kenan parto sono non erano ovviamente al di là del giordano come sappiamo dunque si con eo e i re di kenan che costituivano la potenza e la forza del mondo quando parla delle braccia del mondo si riferisce a questi due giganti re e ai 31 di kenan per questo loro magrado saranno presi da tremito e terrore e la loro forza si rivelerà fragile davanti a kadosh barofu infatti sempre che sta in alto in tutte paura chi sta in basso ed è hashem e solo ad hashem al quale appartengono la forza e la potenza a venire in tuo aiuto e booker tov carissima rashi 27 e fa su continua dice hashem ha scacciato davanti a te il nemico e ha detto distruggi ha detto distruggili e e ogni voto a rufo taba o te mi spagate ma scalchi e il som calomo ii lekti va bechati ma ragazze ragazze Allora, pagina 871, capitolo 33, Pasuk 27. Allora, come dicevo, abbiamo prima nella Yom Yom parlato del servizio divino della vigilia di Om Kippur, che è sentire il rimorso per le mancanze del passato, invece il servizio divino di Om Kippur stesso, della giornata di Om Kippur, sono i propositi per risolvere in futuro. E questo per quanto riguarda la Yom Yom, poi siamo appunto al primo Pasuk 27 del capitolo 33. Oggi concludiamo il capitolo, dunque fino a 29 incluso, dunque capitolo 33, Pasuk 27, 28 e 29. Dunque, nel Pasuk 27 abbiamo visto che a dimora del Dio dei tempi antichi, a quale Dio si riferisce, come abbiamo detto, al Dio che è più antico di tutti gli Dei, sia Kadosh Barofu, che scelse per sé Nubi quale abitazione dimora, e sotto la sua dipora abitano tutti coloro che possiedono un braccio forte, e quando dice Pasuk, braccia del mondo, si riferisce ai due giganti Sihon e Og, giganti militarmente, fisicamente, in tutti i sensi, e anche i 31 re di Kenan, che costituivano appunto allora la potenza e la forza del mondo. Dunque, il loro Magrado saranno presi da tremito e terrore, la loro forza si rivelerà fragile davanti a Kadosh Barofu, e Hashem ha scacciato davanti a te il nemico e ha detto, a te, distruggili. Vediamo il Pasuk, che è detto insieme a Meona Elohe Kedem, e questa è anche ovviamente la lettura di Meona, c'è Meona, c'è Khatantora, e c'è Khatanderishit, Pasuk 28, Israele dimora in sicurezza e se ne sta solitario, letteralmente, vuol dire che ciascun individuo di Israele dimora sotto la propria vita e il proprio fico, come è riportato nel Lachim 1, capitolo 5, Pasuk 5, dunque separato perché non ha, attenzione, la necessità di unirsi agli altri per ammettare insieme a motivo del nemico. e conforme a Yaakov in una terra di frumento e di mosto e anche il suo cielo stilla rugiada, cioè anche la benedizione di Itzhak si aggiunge alla benedizione di Yaakov, e a proposito appunto di Bereshit 27-28, Hashem ti conceda rugiada dal cielo. Tutto insieme, Ultimo Pasuk di oggi, 29, Beato te, Israele, infatti dopo aver dedicato a ogni tribù una benedizione particolare, poi parla in modo generico a tutto il popolo di Israele, e per un attimo, voilà, benvenuta carissima, e Rashi pone la domanda, cioè che pro dovrei diffondermi con voi in particolari, riassumendo, tutto è vostro. E dunque, chi è come te, popolo salvato da Hashem, e un'altra cosa, un'altra spiegazione, a proposito di Beato te, Israele, che è come te, che è come te, cioè popolo salvato da Hashem nel senso, popolo la cui salvezza è posta solo e soltanto nella Shechem, nella presenza divina. Dunque, la tua salvezza è Hashem, poiché è lui che è lo scudo del tuo aiuto e la spada della tua gloria. E lo scudo del tuo aiuto e la spada della tua gloria, diverranno menzogneri con te i tuoi nemici, ah ah, se gli dice qualcosa, ma tu calcherai le loro atture. E un esempio, andiamo in Yosha, capitolo 9, Pasuk 9, dove è scritto, a proposito dei Giv-onim, la famosa storia dei Giv-onim, che dissero, i tuoi servi vengono da terra lontana, si sono fatti passare per un popolo che viene da terra lontana, e allora... Yosha ha stipulato con loro un patto, poi alla fine si sono rivelati i menzogneri, che era una farsa, e dunque, come riporta qui Pasuk, diverranno menzogneri, e questo ne è un esempio, un esempio classico, ma tu calcherai le loro alture, come appunto è scritto in Yosha 10,24, ponete i vostri piedi sul collo di questi re. Vediamo il Pasuk, allora, visto che sono solo tre Pasukim, riprendiamo velocemente il Pasuk e il Rashi, 27 ragazzi, tutte insieme parola per parola, maona ilo eccedem, al corcam yachredu v'yazuru v'hocham chalash mipanah, v'entotto, che è un abbracchi, 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 e qui abbiamo concluso la parte di oggi. Allora, domani abbiamo, leggeremo tutte ognuna per sé, l'ultima parte dell'ultima parasha della Torah, che è la morte di Mushera Benu, e l'eccezionalità della profezia di Moshe, bellissimi Ipsukim, dove Moshe raggiunge il massimo livello spirituale, senza tappe intermedie, sale in questa pianura di Moab, fino al monte Nevo, e di fronte ai Reho, Hashem mostra tutta la terra di Israele, di ogni luogo, le sue vicende, i suoi futuri oppressori, dagli Il'Ad fino a Dan, dunque tutto il territorio di Naftali, Efraim, Nasce, Yehuda, fino all'estremo mare occidente, fino all'ultimo giorno del mondo. Allora, chi leggeva la Torah millenni fa, o anche un secolo fa, Hashem li ha mostrato, oggi che abbiamo il video, abbiamo internet, possiamo capire, che gli ha fatto vedere il video, cosa che millenni fa non si capiva, dunque oggi capiamo ancora meglio la Torah, in un certo senso, dunque ha visto tutto, Moshe Rabbe, Hashem li ha mostrato fino al fine medico, non potrai entrare nella Rezistrae, ma sì, ti mostro non solo tutta la Rezistrae, ma anche tutta la storia del popolo ebraco, fino a Beat Mashif, dunque entra in tutti i dettagli, dunque il territorio alla pianura, comprendente Ieriko, eccetera, e Hashem vi dice questa è la terra a proposito della quale ho promesso a Abrame Tzachiakov, l'adorò la tua descendenza, te l'ho mostrata, perché tu la potessi vedere con i tuoi occhi, e morendo, una volta salito nel cielo, tu puoi riferire a Abrame Tzachiakov che io, Hashem, ho mantenuto la promessa fatta a loro a suo tempo, però non ti potrà entrare, e qui, secondo certe Mifarshin, fino a qui scrive Moshe, da qui sarà Yoshua a scrivere, secondo altri invece Moshe che scrive lacrimando, scrive della sua propria morte, dunque lacrimando, dunque Moshe, servitore di Hashem, che appunto, come avevo detto, lacrimando, viaggendo, scrisse su indificazione di Moshe, dunque di Hashem, che lui, Moshe, morì in quel luogo, nel paese di Bonaf, tramite la morte desiderata a suo tempo, perché quando aveva visto, aveva compiannato il fratello Aaron, sul monte, e per la sua dipartita, e ha visto che Aaron è morto col bacio di Hashem, ha anche lui desiderato questa morte, allora Hashem li ha mantenuto la promessa, ecco, Avrai, e difatti, muore con la morte da lui desiderata, cioè col bacio di Hashem. E Hashem stesso lo seppellì, infatti fino ad oggi, l'ubicazione della tomba di Moshe è un mistero, dunque nella valle di Moave, di fronte a Petpeor, di ripeto a Petpeor, e fino ad oggi nessuno appunto è mai venuto a conoscenza di questo luogo della sepoltura di Moshe. Moshe, giorno della dipartita e della nascita, sette di Adar, all'età di centovent'anni, in Amacare, ma non solo che fino a centovent'anni non aveva l'aspetto di un anziano, ma aveva la vista eccellente, cioè era perfettamente in salute, ma addirittura dopo la morte, il suo aspetto non si alterò, e il suo corpo non perse la sua originale freschezza. Qui parliamo di Moshe Rabbein, ovviamente. In Israele piangono Moshe per trenta giorni, e dunque c'è un lutto di un mese, poi termina il lutto, a quel punto il successore Joshua, figlio di Nun, colmo dello spirito di sapienza, perché appunto, se vi ricordate, Moshe aveva imposto le sue mani su di lui, e in Israele, dunque danno ascolto a Joshua, fecero come Hashem aveva andato Moshe, e conclude la Torah, che in Israele non è più sordo un altro profeta come Moshe, con il quale Hashem aveva un rapporto informale, come se si trovasse faccia a faccia, non proprio faccia a faccia, perché se la Torah è esplicitamente, nessun essere lì non potrà vedermi, e nessun altro è paragonabile a Moshe Rabenu, per tutti i segni, però dice che Hashem aveva mandato a compiere, in terra di Gino, tutto contro Faraone, i suoi ministri, tutto il paese, per tutto il vigore che gli fu necessario per portare con la sua mano le tavole della legge, perché erano, pesavano non chili, ma molto di più, e umanamente non era fattibile tenerli, e per tutti i miracoli avvenuti nel temibile grande deserto, per quello che Moshe aveva compiuto davanti agli occhi di tutto il popolo di Israele, quando spezzò le prime tavole della legge, il suo atto fu, come ben sappiamo, più che approvato da Akkadosh Barofu. E Chazak, Chazak, Benit Chazek, quarto ciclo di conclusione, i cinque libri della Torah, ragazze fantastiche, è vero che l'ultima parte agiremo con i Sufimi, i Rashi domani, ma ognuna da sé, allora ho voluto, non potevamo farla insieme, molto brevemente ovviamente, e Chazak, 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 è un concluso, ancora un ciclo, dei cinque libri della Torah, con i rispettivi Rashi, Rashi, come abbiamo detto, molto importanti, e vabbè, poi eventualmente, l'interstemana prossima, faremo un attimino più, i Rashi dell'ultima parte. Passiamo velocissime a Tanya. Ragazze, siete uniche nel vostro genere, uniche, uniche. Allora, secondo quello che è scritto nel libro dei Gilgulim, un attimo, vedo anche, allora pagina, 263, Kuflamet Bag, ottava riga dall'alto, ultima parola della riga. Allora, veloci, veloci, dunque, secondo quanto è scritto nel seferagimbulim, nel ventesimo capitolo, questo lume, questo raggio di cui abbiamo imparato questi giorni, è definito Kav, nel cerchio papristico, il Kav della luce di Ensov, si veste prima della luce dell'Azilu, dell'Asia, poi dalla luce dell'Azilu, dell'Asia, giunge alla Priya, poi alla Lizzera, e poi all'Asia. E da queste, dunque, ciò ha attinenza con la luce della Neshama, della Malchut, della Malchut dell'Asia, ed è così che, a forza e potenza creativa, il termine del Keli, della Malchut, della Malchut dell'Asia, che si trova nell'elemento della Terra. Faccio brevemente perché, come vi ho detto, bisogna glineder, glineder, e prenderò tutti questi concetti, nel corso di Asin. Questa è l'espressione di volontà, dove, come è scritto, in Bereshit 1.11, la Terra produca erbe, trova applicazione concreta, appunto, nel grembo della Terra, costantemente, e per l'eternità, dunque, senza nessun limite, dunque, non soltanto durante i sei giorni, i sei giorni della creazione, come, appunto, in Bereshit 1.20, è scritto, brulichino le acque di un brulichame di esseri viventi, o, Bereshit 1.24, la Terra produca esseri viventi, dalla Chokhmà, della Malchut, della Malchut dell'Asia. Infatti, nei sette giorni della creazione, splendeva in questo mondo, una luce proveniente dalla luce di Enzov, per quello che venne definito grazia gratuita, Chesed Hinnam, dunque, senza che si fosse prima verificata, alcuna elevezione, di quelle che sono definite le acque femminili, cioè, gerbo cabalistico, nel senso, stimolo iniziale, che suscita un'azione, appropriata, da parte, dell'elemento maschile. E, fare giormugliare, erbe e alberi, frutti da nulla, costantemente, di anno in anno, questo, a, dell'infinito, visto che, se questo mondo, continuerà ad esistere, per miriadi, di miriadi, di anni, continueranno a germogliare, di anno in anno. E, ok, un attimo, e tuttavia, ci sono, fra questi, alcuni, che germogliano, in seguito, a un'elevazione, di queste, maimlufim, queste acque femminili, si tratta di quelli seminati e schiantati, ciò non pertanto, questo è come una creazione, dal nulla, un yeshmeai, quello che viene propriamente definito, ex nihilo, perché esiste già, qualche esistenza, all'inizio del processo, in quel senso stretto, si tratta di creazione, yeshmeyesh, non yeshmeai, ex nihilo, ma yeshmeyesh, che è l'opposto del hain, ovviamente, ma il prodotto finale, è, talmente sproporzionato, a ciò che era all'inizio, che il processo vegetativo, è qualcosa di analogo, alla creazione, ex nihilo, e tutto, ciò, poiché, il nocciolo, messo nella terra, è proprio, nessun valore, in confronto al frutto stesso, anche in confronto a tutto l'albero, o bambi e fogli, ed è così, di ogni specie di legume, di verdure, anche di ogni specie di cereali, in cui nascono centinaia di semi, da un solo seme, come se ne fossero creati dal nulla, appunto, gli yeshmeai, a maggior ragione, ogni palvia e ogni spiga, dunque, i frutti che crescono in seguito a un'elevazione, di queste acque femminili, in seguito al seminario, al plantare, sono molto, ma molto più pregiati, di quelli che crescono spontaneamente, per la sola forza vegetativa della terra, e da giò, possiamo comprendere, il valore, di questo, attrarre delle luci superiori, del mondo più superiore in assoluto, che è la zilut, bria e tira e sia, dunque, partendo dalla zilut, e questo è il fine, per cui fu creato l'uomo, come spiegato, altrove, nel contetto rato. Sto pensando. Ok, va bene. Leggiamo adesso sul testo, velocemente. Ok. Allora, comunque, come abbiamo detto, ottava riga dal basso, pagina 263, ultima parola. e la prima cosa che è scritto nel senso, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai René. Grazie a tutti. 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 Allora, siccome ieri... Allora, Shilat, il prossimo. Siccome ieri non abbiamo letto il tema insieme, allora non riprendiamo tutto perché siamo comunque la vigilia, siamo donne, abbiamo mille cose da fare. Però il peric di Nicol, sì. 44, giusto? Grazie a tutti. 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 che... 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 ... che... ... ... che... ... che... 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 quest'anno... questo... che... 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 ecco... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.